Dramma familiare a Santo Stefano di Camastra. Una donna di 40 anni e la figlia 14enne sono state trovate morte nella loro casa di campagna. Le due donne sarebbero state trovate impiccate. A fare la macraba scoperta sarebbe stato il marito della donna. La pista privilegiata resta quella dell'omicidio suicidio. L'indagine è curata dai carabinieri della città della ceramica e dalla procura di patti. Per ore sulla casa, situata a qualche chilometro dal centro cittadino, nella zona del santuario di Letto Santo, sono stati eseguiti rilievi per cercare di chiarire le ultime ore di vita delle due vittime. Al vaglio degli inquirenti, anche i post pubblicati dalla quarantenne sui social, la famiglia portava avanti una vita riservata e spesso trascorreva le giornate nella casetta di campagna. A Santo Stefano di Camastra, comune del Messinese, con poco più di 4.000 abitanti, mamma e figlia erano conosciuti e nessuno poteva immaginare quest'epilogo. Il marito lavora in un'azienda della zona. Sarebbe stato proprio quest'ultimo ieri a cercare la moglie e la figlia al telefono, non ricevendo risposta. Dopo vari tentativi, l'uomo è andato a controllare nella villetta di campagna, facendo la terribile scoperta. La notizia ha sconvolto la comunità stefanese che oggi si interroga sulle motivazioni che stanno alla base della tragedia. Per i funerali di Mariolina ed Ale, trovate morte nella loro abitazione di campagna, nella città della ceramica sarà lutto cittadino. Lo ha annunciato il sindaco Francesco Re. Adesso è il momento del dolore e della solidarietà che deve spingere ognuno di noi stefanesi a stare accanto a Maurizio. Ai familiari tutti che si trovano a vivere un momento drammatico, è anche il momento in cui chi fosse eventualmente a conoscenza di fatti e circostanze utili a facilitare gli inquirenti a ricostruire quanto accaduto, si mette immediatamente a disposizione degli stessi e collabori. Soprattutto il momento nel quale la società civile, istituzioni pubbliche, l'intera comunità stefanese, debbano interrogarsi e riflettere su ciò che ha impedito di percepire la condizione di latente disagio interiore, di sofferenza, per non aver saputo captare il bisogno di vicinanza e di aiuto di cui necessitavano Mariolina e Dale. Quando accadono fatti come questi, continua il sindaco, c'è sempre una responsabilità collettiva che deve spingere tutti a riflettere su quanto e di più poteva e doveva essere fatto per supportare condizioni di fragilità psicologica amplificata da 15 mesi di isolamento e di restrizioni sociali patiti a causa dell'emergenza Covid-19. È dovere collettivo di ognuno di noi farlo non solo perché non si ripetino più simili eventi, ma soprattutto perché una comunità è più forte solo se riesce a essere più solidale e non lasciare indietro nessuno. Il primo cittadino ha fatto poi sapere che per il giorno dei funerali di Mariolina e Dale verrà proclamato il lutto cittadino.